Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo, se non ci conosciamo, ci conosciamo con uno svuota la spesa Svuota la spesa di Basco, specialmente, e qualcosina di Percop e Tigotà Vi faccio vedere il tutto Qui c'è qualcosina di Doro L'acqua naturale prima, ormai ve la faccio sempre vedere, è sempre questa Che è costata 1,38 Poi, doppio brodo, quello da Dostar classico, pagato 2,99 Salsa barbecue della Calvè per il fidanzato, 1,98 Ha preso anche la fettina bovina adulto, 4,01 euro, ma l'ha già cucinata E questo era il d'oro Poi, Basco, siamo andati più volte Pela di tacchino Aya, pagata 4,69 Petto di pollo a fette, sempre di Aya, costato 5,04 Sempre Aya, contro filetti di pollo, pagato 5,98 con lo sconto di 1,50 Ha preso e fidanzato 2 confezioni di burger di salmone della Findus Questi qui Pagati 3,81 euro Pancetta affumicata a cubetti, di Primia Pagata 2,59 euro Petale di guanciale negroni, pagato 2,39 euro Sempre Primia, ha preso anche le code di gamberi, pagate 5,69 Ha preso anche un sacchetto di arance Tarocco, queste qui, la retina Pagate 3,49 euro Cipolla bianca, sempre Primia Il sacchettino ha pagato 1,39 euro In salata a songino dell'Orto degli Angeli Pagate 2 confezioni, ognuna 99 centesimi 2 confezioni delle mele golden, quelle da 4 Pagate 0,99 l'una Salmone scozzese, affumicato Della Sea Fish Ne ha presi 2 Costava, ognuna costava 7,49 con lo sconto di 2 euro Quindi 5,49 Zucchine verdi Pagate 2,39 euro Ha preso anche i porri 1,79 euro Peperoni rossi Pagati 3,89 euro E il vassoio di carote 0,99 Patate pre-fritte di Primia 1,98 euro Sempre di Primia I piselli fini, quelli congelati 2,79 euro Poi, 2 confezioni di riso e carnaroli di Primia Che è questo qui Pagate 1,99 l'una Questa è la seconda 1 litri di Coca Cola, ma l'abbiamo già bevuta 2 confezioni di insalatissime di Tonno Riomare Pagate 4,79 euro Pagate 4,79 euro Zmill, quello col tappo verde 1,59 euro 4 uova di fior di bio 2,29 euro Ha preso anche i gamberi Indo-Pacifici 3,69 euro Parmareggio, quello grattugiato 1,89 euro Un altro Zmill A 1,59 euro E sempre l'acqua naturale Pagate 1,32 euro Siamo andati, questa volta siamo andati insieme al masco Abbiamo preso 2 confezioni Con naturale, sempre la Primia Il Vicinette Disincrostante Gel È l'unico che pulisce per bene i luci Carta igienica Sempre quella Primia Pagata 1,99 Sì, sono 10 rotoli Dentifricio, la Zetta 3D White Questo qui Pagato 2,49 Il Friol Che è l'unico olio da friggere che usiamo 2,39 euro Mele Golden Queste qua Queste qui 2,31 euro Maionese, quella classica 2,19 euro Scontata di 0,44 euro 2 confezioni di panna chef Ognuna 1,39 euro Ognuna 1,39 euro Clementini, mandarini Un sacchetto 2,49 euro 4,000 euro Pagata 1,59 euro Totale 6,36 euro Poi Da Tigota ho preso la tinta Ho preso la Noa Il nero E' solo il tubetto Pagata 7,95 euro Da Agri Più per il cagnolino Ha preso Queste scatolette qui Della Solo Ha preso Cinghiale Cervo E cavallo Ne ha preso Ne ha prese queste Che sono più grosse E una Quelle più piccoline Quelle più grosse 1,55 euro Mentre quelle più piccole 0,75 euro In teoria Ti chiedo solo Mangimi Mia mamma Ha preso La Bresale Della Battellina IGP All'ipercotto Due Certosini Prosciutto San Daniele D'Occoli Cacciottone Di Norcia E Toma Al peperoncino E Un cestino Di Clementine Successo Questa è una cosa L'ha presa Lanterna Fuore Mi ha regalata Sia A mio affianzato Sia Mi ha fatta La sua ragazza A noi Ragazze Ci ha preso Questo Che carinissimo Il cagnolino Con Ling Mentre Ai maschietti Con i baci Perugino Allo sacchiotto Infine Ha preso Una confezione Di Napisa Non mi ricordo Se al Conad O al Libercorp E due confezioni Della Regina Blitz Finalmente Questa Questa Era tutta La spesa Stavolta Bell'abbondante Spero che il video Vi sia piaciuto Stato utile In qualche modo Lasciate un like Un commento Qui sotto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Vi mando Un grosso bacio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao